della stagione. Allora, eccoci eh, i piloti entrano da questa parte, salgono, prendono il premio, alzano il trofeo e si seguono sulla scala. Facciamo una foto alla fine tutte insieme e ci vediamo nel 2016 se Gigi ci conferma il calendario, chissà, chissà. Classe e uno due tempi. Fino all'anno scorso avevamo fatto gli assegni che poi dovevano essere incassati alla banca KTM.